Se questo video raggiungerà 80 visualizzazioni, un po' così poche raga, non ne servono tante perché mi piacerebbe fare il prossimo video in autotune Cioè raga, 80 visual e autotune 80 visual entro giovedì Raga, come state? Oggi siamo tornati dopo il video triste di prima con un'altra reaction ad una vostra clip Sempre una, sì, noi andiamo con calma sempre con una poi piano piano aumenteranno, non lo so, ma fino a qui sempre una clip Comunque questa clip è di un altro youtuber, Mordex che io ho anche salutato in un video, tra l'altro non mi chiedete in che video l'ho salutato perché non mi ricordo vi giuro, prima o poi lo troverò Comunque siamo qui per vedere questo video interessante su una megacassa L'altra volta abbiamo visto la megacassa di Flamesco 11 con 7 skip ha trovato, ha trovato infine Bombardino e Carlo, quindi era un super raro quindi è stato fortunato parecchio ma non eccessivamente in questo caso, leggendo dal titolo la migliore megacassa mai aperta 7 skip con 2 mitici quindi credo che ci sarà per forza qualcosa di grosso io direi di andare, oddio, durò solo 57 secondi, non lo sapevo le percentuali sono queste, vediamo 1% per i brawler super rari 0,5 per i brawler epici 0,2 per i brawler mitici 0,11 per i brawler leggendari per i leggendari è altissima comunque ci sono poche persone che ce l'hanno così però avendo 1000 coppe perché questo ragazzi è un account con 1000 coppe è anche normale che abbia le percentuali così alte ok, vediamo eh, qui naturalmente 7 skip, signori perché se no non avrebbe scritto 7 skip nel titolo giustamente fa lo screen oddio, è venuto sfocato lo screen oddio, che sta succedendo? ok, va avanti vuoi che... eh... ah, adesso gli è arrivato in pratica ma non ora però, cioè per fortuna che hanno la... ah, ah, è vero due mitici oh ma... no, vabbè 1000 coppe, mortis oddio, questo poteva essere leggendario ed esce Mr. P eh, vabbè cioè, io a 1000 coppe non avevo nemmeno poche lui ha già due mitici vi giuro, regà ah, pure Brock vi giuro, regà intanto è finito così il video eh, vi giuro, regà non avevo poche a 1000 coppe non so perché fino a 1200 coppe non avevo poche avevo tara ma non avevo poche non so come sia possibile questa cosa comunque io direi che questa clip è stata no, fortunata molto di più perciò che è gg per lui mi raccomando iscrivetevi al suo canale iscrivetevi anche al mio canale in questo caso perché siamo siamo più forti e niente ragazzi detto questo la clip è finita e ci possiamo beccare in un prossimo video ciao 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 ciao